Buon salvone appassionato di football manager, io sono Alessandro, l'Uculus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi parliamo del mondialito, ovvero di uno scenario alternativo dove non esistono più Premier League, Ligan, Serie A, Bundes e compagnia bella, ma dove le squadre più importanti del globo terraqueo vengono inserite in un'unica struttura scaglionata su dieci livelli, dove si potrebbe per esempio partire dall'ultimo e fare una scalata insomma fino ad arrivare nella serie maggiore dove chiaramente ci sono già le squadre più importanti della terra. La struttura del mondialito quindi prevede dieci divisioni, ovvero dieci livelli, ognuna delle quali potrebbe essere caratterizzata da più gironi, per esempio la divisione 1 e 2 prevedono dei gironi singoli da 20 squadre, mentre la divisione 6 prevede quattro gironi da 20 squadre, quindi ogni divisione poi avrà delle regole diverse per il numero di squadre che devono essere poi promosse nella divisione successiva. Non ci sta più il concetto di Coppa Nazionale, le nazionali esistono comunque, però abbiamo delle coppe che raggruppano due divisioni alla volta, per esempio la Coppa do Solos prevede che partecipano tutte le squadre della divisione 10 e della divisione 9, per esempio invece la Coppa do Superstar prevede la partecipazione solamente delle squadre della prima e della seconda divisione, mentre la Coppa do Mondialito è una coppa che viene fatta in maniera trasversale, possono partecipare tanto le squadre della prima divisione, tanto le squadre dell'ultima divisione, quindi è una coppa veramente enorme. Devo dire che i premi delle coppe però secondo me sono un po' troppo bassi, ma poi ne parleremo dopo. C'è anche la Supercoppa del Campione dove partecipano chiaramente tutte quelle squadre che hanno vinto le loro divisioni di riferimento. Una volta avviata questa mod chiaramente potremo scegliere una squadra tra le oltre 1200 presenti in questa modalità di gioco, poi vediamo come si scarica e come si installa la mod, non vi preoccupate. Vediamo per esempio in divisione 1 che sono presenti diverse squadre dei top campionati, squadre come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, le due squadre di Manchester, PSG, però ci sono anche squadre che potrebbero andare in un po' di difficoltà con questi team come il Porto, chiaramente il Porto non è attrezzato per vincere subito la divisione 1, però chiaramente con un po' di mercato potrebbe anche farcela. Vediamo anche la divisione 2 dove sono presenti squadre che potrebbero anche stare in divisione 2 come per esempio Lazio e Roma. Chiaramente ci sono anche squadre brasiliane come il Flamengo, come il Gremio che potrebbero andare un po' più in difficoltà, è chiaro che sono raggruppate queste squadre in base chiaramente al ranking, però è anche vero che ci sono squadre che hanno maggior disponibilità economica, quindi potrebbero in qualche modo avere chiaramente dei vantaggi tattici. Vediamo anche qualche divisione inferiore, giusto per avere un'idea, per esempio in divisione 5 nel girone A ci sta sia la Stana, sia ci sta per esempio il Barmouth, il Newcastle, oppure, che ne so, l'Udinese. Ci sono anche delle squadre di divisioni inferiori, per esempio c'è anche l'Empoli che possiamo trovare in questo mondialito, accorpate insieme a squadre chiaramente di divisioni maggiori ma di campionati molto più scassi nel ranking. Questa è la struttura del mondialito, io però mi volevo soffermare sulla componente economica. Andiamo a vedere quali sono i premi di queste 10 divisioni. Come potete notare le regole per la partecipazione all'interno di questo mondialito sono completamente diverse e sono sicuramente molto più semplici da rispettare rispetto a quelle che potrebbero essere le regole di partecipazione della Premier League, della Serie A e compagnia bella. Si possono vincere tanti soldi, soprattutto nelle divisioni maggiori, che sono chiaramente sbilanciate per le squadre che vi partecipano, quindi è secondo me un po' complicato fare la scala proprio dall'ultima divisione fino alla prima, però vi faccio notare come in prima divisione si possono prendere in base al posizionamento anche 100 milioni, nella divisione 2 si scende già a 50 milioni per il primo classificato, mentre in divisione 3 chiaramente 25, quindi vedete insomma come si dimezzano continuamente gli stipendi, fino ad arrivare poi alla divisione più bassa, dove il premio per salire è veramente ridicolo, appena 200 mila euro. Questo è un problema per quelle squadre che magari hanno un monte ingaggi molto alto, che non riescono poi insomma a sopravvivere in queste divisioni, devono chiaramente smantellarsi, quindi diciamo io avrei messo dei premi un po' più alti, anche in base a quella che era stata chiaramente l'esperienza dell'anno scorso, perché Timo, il ragazzo che ha fatto questo mondialito, l'aveva fatto anche l'anno scorso. Io ripeto, ho avuto un po' di problemi con alcune squadre, perché non riuscivano chiaramente a mantenersi inattivo. Ma dove si scarica e come si installa questa mod? Bisogna andare sul sito di FM Scout, il link specifico ve lo lascio chiaramente in descrizione a questo video, non vi preoccupate. Qui abbiamo due possibilità, o clicchiamo su Steam Workshop se avete appunto acquistato FM21 su Steam, ci sarà quindi uno scaricamento e un'installazione automatica che avverrà direttamente da Steam, verrà gestita automaticamente da Steam, oppure dovete cliccare su Direct Download, che è quello che faremo noi e bisognerà fare chiaramente delle operazioni manuali. Andiamo quindi su Direct Download, per far sì che si manifesti la reale schermata poi di download, che è una schermata di Mediafire, eccola qua. Dovete cliccare un'altra volta su questo pulsantino blu stavolta, dove c'è scritto Download. Lo scaricamento sarà veramente velocissimo, perché si tratta di pochissimi KB. Andiamo nella schermata dove voi normalmente scaricate il materiale da internet, che per me è la cartella di download. Una volta completato il download abbiamo quindi questo file, che si chiama appunto Mondialito, si tratta però di un file compresso, quindi ci serve un programma di decompressione gratuito, come può essere 7-zip o WinRAR. Io utilizzerò 7-zip, quindi tasto adesso del mouse in corrispondenza di Mondialito, poi andiamo su 7-zip, quindi andiamo su estrai i file in Mondialito, dopodiché attendiamo che chiaramente il processo di estrazione si completi, ma sarà appunto velocissimo. Clicchiamo all'interno di questa cartella, che si chiama appunto Mondialito, quello che dobbiamo fare è cliccare un'altra volta all'interno della cartella Editor Data, e dobbiamo copiare questo file, che si chiama appunto Mondialito. Questo file va copiato e va messo nella cartella Editor Data, che si trova in documenti, attenzione, non dove avete installato il gioco. Clicchiamo quindi col tasso destro del mouse in corrispondenza di Mondialito, affinché compaia questo menu, clicchiamo su Taglia o su Copia, dopodiché andiamo su Documenti, Sports Interactive, Football Manager 2021, poi andiamo nella cartella Editor Data, se non avete questa cartella al solito vi basterà crearla. Tasto adesso il mouse all'interno di Editor Data e poi cliccate su Incolla. La fase 1 è terminata, abbiamo scaricato e abbiamo messo poi il file all'interno della cartella giusta di Football Manager 2021, questa operazione chiaramente andava fatta a gioco spento, adesso possiamo avviare Football Manager 2021. E una volta avviato FM21, clicchiamo su Carriera, come faremmo normalmente per iniziare un nuovo save. Fermi tutti, qua in alto a destra c'è scritto Database, clicchiamo su Football Manager 2021, si apre questo piccolo menu, qui dobbiamo fare attenzione che sia attiva la casellina Mondialito. Se non è selezionato questo file, chiaramente voi non potrete giocare al Mondialito. Attenzione, se avete altri file che sono presenti, io vi consiglio di deselezionarli, perché potrebbero andare in conflitto poi con il Mondialito. Quindi mi raccomando, casellina attiva del Mondialito, così con questa V vicino, poi andiamo su Conferma e poi andiamo su Impostazioni avanzate e attendiamo che venga caricato il Database. Una volta caricato il Database, chiaramente dovete decidere che tipo di Database mettere, dovete andare su Aggiungi di nuovi campionati, qui vi trovate di fronte a questa schermata che potrebbe un po', diciamo, preoccuparvi. È del tutto normale, perché ci sono dei triangolini che vi dicono, se ci passate sopra il mouse, guarda che mancano le squadre per poter giocare a quel campionato, ma è del tutto normale, perché la Juventus sta in Serie A, che ne so, il Manchester sta in Premier, sono state prelevate da quelle competizioni e sono state inserite nel Mondialito. È per questo che questi campionati non sono più attivabili. Quindi quello che dobbiamo fare è attivare la casellina del Mondialito che è stata messa sotto Oceania, così a caso, e poi andare su Conferma. Dopodiché, ovviamente, dovete decidere quante divisioni caricare sin dall'inizio. Se mettete 10 divisioni, vi dico già che il gioco potrebbe essere un po' lento, soprattutto se avete un computer non moderno, non con grande RAM e non con un buon processore. La scheda grafica non è assolutamente importante. Tenete anche presente che uno potrebbe anche voler partire dalla decima divisione, poi una volta arrivata in nona divisione potrebbe rimuovere il campionato di decima divisione. Poi vi faccio vedere anche come si fa se non sapete farlo. Andiamo quindi su Inizia partita e vediamo quanto tempo ci metterà, insomma, per caricare questo campionato. In base a quelle impostazioni, il computer ci ha messo all'incirca 5 minuti per caricarmi chiaramente questo scenario. Prendiamo una squadra a caso, vi faccio così vedere anche come si fa a rimuovere e aggiungere chiaramente divisioni successive nel corso delle vostre partite. Scegliamo una squadra. Vediamo quindi come si fa a rimuovere le divisioni che non ci interessano più, perché magari uno parte dalla divisione 10, poi viene promosso nelle divisioni successive, vuole togliersi le divisioni inferiori perché chiaramente questo rallenta un po' il gioco. Considerate che è una mod un po' pesante, quindi più andate avanti nel tempo e chiaramente più potrebbe rallentarsi il gioco, quindi è opportuno andare a togliere via via tutte le divisioni che poi non vi interessano più, per alleggerire i calcoli. Andiamo quindi su FM, andiamo su aggiungi rimuovicampionati e qui abbiamo il mondialito. Ora, siccome noi abbiamo preso una squadra di divisioni 2, non possiamo automaticamente cancellare né la divisione 2 né quella superiore. Questo è fondamentale. Potete cancellare solo le divisioni in cui voi non siete partecipanti e che soprattutto sono inferiori alla vostra. Quindi magari io, facciamo il caso che sono arrivato in divisione 8, voglio togliere la divisione 10, vado su questo meno e automaticamente, vedete come è scritto adesso in rosso la divisione 10, questa divisione non sarà più chiaramente utilizzabile, non potremo più finire in divisione 10 dopo aver fatto conferma, però non subito, ma dal 20 giugno 2021. Perché? Perché chiaramente al momento è stata già caricata la divisione 10, quindi dovrà semplicemente terminare lo svolgimento di questa divisione e poi, insomma, dal giorno 21 giugno non sarà più presente nel nostro save e ciò alleggerirà appunto i calcoli del nostro PC. Il video sul mondialito termina qui. Fatemi sapere nei commenti se anche voi magari volete cimentarvi in questo scenario alternativo per FM21. Per chi magari vuole qualcosa di più hardcore, potrebbe appunto partire proprio dalla divisione 10, vi assicuro che non è assolutamente semplice scalare le varie divisioni e arrivare in prima divisione. Vi saluto, buon salbone, al prossimo video di FM21.